Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese Oggi prepareremo uno dei piatti comfort food che adoro di più La zuppa di ceci con zucca e pietola Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono la zucca Io ho scelto la zucca delica, potete scegliere anche qualsiasi altro tipo di zucca a voi piaccia Qua ci sono 600 grammi 300 grammi di zucca 500 grammi di bieta tagliata a listarelle 250 grammi di ceci già sgocciolati Io utilizzerò per questa ricetta i ceci precotti Un porro tagliato finemente Del prezzemolo Brodo vegetale Olio Sale Del pepe nero a piacere E formaggio grattugiato La nostra pentola si sta già preriscaldando E allora andiamo subito a preparare Che è così buona che in mezz'ora neanche saremo già a tavola In questa pentola ho aggiunto due cucchiai abbondanti di olio extravergine d'oliva E a temperatura andiamo ad aggiungere subito subito il porro Un pizzico di sale E lasciamolo appassire per qualche minuto Il porro si è ben appassito e è arrivato il momento di aggiungere la zucca Che ho tagliato a cubetti Diamo una bella mescolata E ora andiamo a unire il brodo caldo Lo portiamo a ebollizione Dal momento del bollore deve cuocere per circa una decina di minuti 10-15 minuti Ci vediamo dopo Andiamo a unire adesso i ceci Andiamo una bella mescolata Ed è arrivato il momento di abbassare il gras Deve sobollire piano Li facciamo andare per una decina di minuti E' arrivato il momento di aggiungere la bieta Che ho tagliato a listarelle Sciacquato e lavato Chiudiamo con il coperchio E va fatta cuocere per un quarto d'ora circa E poi alla fine regoleremo di sale Pepe E andiamo a mangiare Non ci resta che fare gli ultimi due passaggi Perché la nostra zuppa è prontissima Andiamo ad aggiungere un po' di formaggio grattugiato all'interno Se volete portatelo anche a tavola E una parte di prezzemolo Diamo un'ultima mescolata Guardate com'è buonissima Io non vedo l'ora di andare a gustare Ho regolato anche di sale Perché ci voleva Un pizzico in più di sale E ho aggiunto un pochettino di pepe nero Non resta che impiattare E andiamo a mangiare Eccoci qui Se volete aggiungete ancora un pochettino di prezzemolo Fresco E un giro d'olio E la nostra zuppa Di zucca Cece bieta E pronta per essere gustata Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta Qui c'è un profumino che non vi so dire Noi andiamo subito a mangiarla Ci vediamo domenica prossima Inviaci richieste e suggerimenti a Agnese Chiocciola Cucinaconagnese.it Oppure se vuoi Visita il sito www.cucinaconagnese.it Cucinaconagnese.it